Avevano costruito delle vere e proprie piazze di spaccio ad Avezzano, ma soprattutto all'Aquila. L'operazione della squadra mobile ha portato all'arresto di sette marocchini e di un cittadino macedone, sette ai domiciliari per uno obbligo di dimora. 77 gli episodi di spaccio accertati dagli investigatori. Venivano vendute quantità che variavano dagli 0,5 grammi sino ad arrivare, ma solo in un caso, a 15 grammi. 50 euro al grammo per un guadagno stimato di circa 10.000 euro. All'Aquila l'organizzazione spacciava nel parcheggio del centro commerciale Il Globo o nella piazza di Preturo. Non nominavano mai le parole cocaina nelle conversazioni telefoniche, ma parlavano di carne e birra da vendere. Avevano anche delle vendette. L'approvvigionamento con ogni probabilità avveniva nel mercato romano. Studenti, professionisti, commercianti e imprenditori, fruitori. Gli episodi di spaccio più numerosi nel capoluogo di regione, anche se gli stranieri, tutti regolari, erano domiciliati ad Avezzano. Formalmente erano braccianti agricoli nel Fucino, ma le aziende, ha precisato il dirigente della mobile Tommaso Niglio, non erano assolutamente conniventi con l'organizzazione malavitosa. Un'indagine che si inserisce nel solco delle altre portate avanti dagli uomini e dalle donne della questura e dalla sezione antidroga, diretta dal sostituto commissario Buccella. Beh, abbiamo rilevato che questo gruppo di cittadini stranieri aveva impiantato nel capoluogo due piazze di spaccio, in particolare in due diverse parti della città. Però, allo stesso modo, siamo riusciti comunque a debellare questo tipo di fenomeno. Era un fenomeno che stava diventando preoccupante perché gli spacci sono stati ripetuti nel corso del tempo, molto ripetuti. Beh, questo è il fenomeno che lo dice. Abbiamo sequestrato nel corso di questo anno ingenti quantitativi che fanno ritenere che dall'Aquila anche possa irradiarsi nella provincia un fenomeno di distribuzione. Quindi non è soltanto più una piazza dove viene venduta al dettaglio e quindi la droga arriva in piccole quantità. Il sequestro che è stato fatto nei primi mesi dell'anno di un chilo di cocaina lo testimoni.